Sei nuovi mesi di cassa integrazione per traghettare i lavoratori fino alla primavera del prossimo anno e provare a vedere se, con i fondi del Recovery Plan, sia possibile raggiungere l'obiettivo che l'accordo di programma ha fallito, ovvero reindustrializzare l'area Umbria e Marchigiana della ex Merloni, oggi Indelfab. Era questo stamani il tema dibattuto al tavolo istituzionale tra i Ministeri del Lavoro ed Economia, Sindacati, Regione Umbria e Marche e curatori fallimentari dell'azienda Indelfab che aveva rilevato la ex JP. A sua volta subentrata al fallimento della Merloni, il governo si è detto disponibile a mettere sul piatto altri sei mesi di cassa che traghetterebbero i 537 lavoratori Indelfab di Umbria e Marche, di cui 262 nello stabilimento di Colle di Nocera Umbra, fino al 15 maggio 2022, non con il fine di un mero prolungamento di un'agonia, ma di un'opportunità in più per sfruttare i fondi del Recovery Plan e costruire un progetto sull'ex Merloni. Ad oggi la cassa per cessazione attività scade il 15 novembre prossimo, un lasso di tempo, hanno detto Regione e Sindacati di Cigelle e Cislewil, troppo breve per dar vita ad un progetto. Su quell'area la Presidente della Regione Umbria, Tesei, aveva detto che c'era più di un imprenditore interessato a dare vita ad aziende di media e piccola dimensione, incentrate sulle nanotecnologie con possibilità di impiego di decine di persone. Per dare sostanza a questi progetti, è stato detto oggi, serve più tempo, da cui la richiesta di altri sei mesi di cassa, che per essere operativa ha bisogno di una serie di passaggi formali. Il primo è il ritiro delle lettere di licenziamento recapitate ai lavoratori dai curatori del fallimento Indelfab, quindi la richiesta formale della cassa e la sua approvazione in sede ministeriale. Quello odierno è stato un incontro che voleva sondare disponibilità, evidentemente presenti, ma ora dovranno parlare gli atti. Si tratta di un risultato significativo, poiché da una parte porta ossigeno a livello sociale, in un territorio che ha in estrema difficoltà dall'altro consente di allungare i tempi in vista di eventuali soggetti che manifesteranno interesse riguardo alla vicenda Indelfab, hanno evidenziato i sindacati FIM, FIOM, WILM, Di Amarche e Umbria. Siamo molto soddisfatti della revoca dei licenziamenti, ha commentato invece l'assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, a fronte dell'opportunità concessa dal decreto sostegni. Abbiamo infatti realizzato il programma di politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori della Indelfab che trova una specifica riserva di 2 milioni di euro, cassa integrazione straordinaria nell'avviso rework emanato nelle scorse settimane. Affiancheremo il MISE, prosegue Fioroni, nell'attività di scouting per definire un piano di reindustrializzazione e svilupperemo, a supporto di questa attività, una progettualità che possa consentire l'attivazione di iniziative industriali a carattere fortemente innovativo.